Democrazia e giustizia sociale sono due ingredienti per combattere la mafia e la sua evoluzione. Se ne è parlato a Taranto, alla biblioteca Clavio, un incontro voluto da Libera, rievocando anche quelle che sono state le parole recenti da parte di Don Luigi Ciotti. Nel nostro cammino di antimafia come Libera oggi constatiamo un'evoluzione, lo abbiamo detto da più tempo, lo ha detto Don Luigi Ciotti più volte, le mafie si stanno evolvendo, stanno entrando nel mondo dell'economia, stanno entrando nel mondo del turismo. E quindi è chiaro che oggi dobbiamo avere il coraggio, la capacità e la conoscenza delle mafie di come si stanno evolvendo nei nostri territori. Ma soprattutto dobbiamo risvegliare una nuova coscienza civile, perché a volte appare che una certa indifferenza, come ha richiamato Don Luigi Ciotti il 21 marzo a Milano nella giornata della memoria, sta in qualche modo facendoci capire che la gente accetta oggi quasi una normalizzazione di questo fenomeno, invece il silenzio delle mafie è preoccupante. C'era anche la magistratura di Taranto all'incontro, sicuramente il ruolo è in una seconda battuta, quella dei magistrati, quando i danni, come è stato detto, vengono fatti. Bisogna agire in anticipo, ossia bisogna prevenire per poter curare quella che è una vera e propria malattia. La mafia è prima ancora che un fenomeno criminale, è un fenomeno sociale, cioè è una cultura, una sorta di cultura e quindi bisogna innanzitutto incidere sul sociale, sui comportamenti, bisogna educare le persone a riconoscere comportamenti mafiosi, a riconoscere situazioni di illegalità e quindi educarle innanzitutto alla legalità. La mafia è infiltrata nel tessuto economico della società, nelle amministrazioni locali, quindi è evidente che la magistratura deve fare il suo dovere, deve perseguire tutti i reati in generale, ma deve avere una particolare attenzione per i reati contro la pubblica amministrazione, per esempio che sono strettamente connessi anche con la criminalità organizzata, per i reati di criminalità economica che ormai sono quelli che rappresentano il secondo business della mafia dopo la droga.